Grazie. La legge regionale numero 16 del 2013, norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto e informazioni della Giunta regionale a riguardo. Prego, Consigliere Solinas. Grazie, Signora Presidente. La legge regionale 17 settembre del 2013 numero 16, norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto e il regolamento regionale 5 dicembre 2014 relativo alla suddetta legge hanno come argomento le misure per la formazione di informazioni in materia di prevenzione delle cadute dall'alto. La medesima legge individua anche le tipologie di interventi e misure di prevenzione delle cadute dall'alto, quali sistemi di ancoraggio permanenti che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza. La predetta normativa regionale costituisce una delle prime e al contempo una delle più avanzate normative in materia di prevenzione delle cadute dall'alto. Tuttavia i regolamenti, da quanto risulta, previsti dall'articolo 7,2 della legge di che trattasi, non sono stati ancora adottati dalla Giunta regionale, in particolare quelli concernenti la prevenzione delle cadute dall'alto nell'ambito dell'industria e dell'agricoltura. Lo scorso 3 novembre 2018 a Campello sul Chituno un uomo di 59 anni è morto cadendo dal tetto del capannone dell'azienda agroalimentare del fratello, sul quale era salito per fare delle piccole manutenzioni. Il fenomeno delle cadute dall'alto è purtroppo un fenomeno ancora presente nel nostro territorio regionale. Per questo la mia interrogazione alla Giunta regionale è volta a conoscere le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della legge regionale 17 settembre 2013 numero 16 e i correttivi necessari per il suo miglioramento nonché per sapere se si intende adottare i regolamenti previsti dall'articolo 7,2 della medesima legge, in particolare quelli relativi alla prevenzione delle cadute dall'alto nell'ambito dell'industria e dell'agricoltura. La legge regionale 16 del 2013 di fatto promuove e favorisce azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri. La stessa legge prevede che per lo svolgimento di particolari attività fossero dettate azioni da porre in essere sul territorio in base a specifici regolamenti della Giunta regionale. I regolamenti riguardano le attività da svolgere in ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura e nell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici e musicali. Per quanto riguarda le attività dei locali di pubblico spettacolo è stato emanato un regolamento nazionale per cui non si è ritenuto opportuno procedere con un regolamento regionale apposito. Il regolamento sull'attività in edilizia invece, regolamento regionale del 5 dicembre 2014 numero 5, è stato sostanzialmente emanato per lo svolgimento delle attività nell'ambito dell'edilizia, emanato nel 2014 e in corso di attuazione. In accordo con le azioni previste nel regolamento regionale, il tavolo della sicurezza istituito con DGR 617 del 2017 ha previsto che nel contesto della ricostruzione uno dei temi di particolare rilevanza da promuovere è esattamente questo appunto evidenziato dal consigliere Solinas e quello delle cadute dall'alto. Si è stabilito pertanto di attivare la sperimentazione di un modello per la formazione dei lavoratori delle imprese impegnate nel particolare contesto della ricostruzione in collaborazione con i comitati paridetici e con l'INAIL. L'attivazione di questo percorso di sperimentazione è stato attivato esattamente in questi ultimi tempi. Si ricorda inoltre che tutte le SAE, le cosiddette SAE, soluzioni abitative di emergenza, contrariamente a quanto previsto dall'appalto della protezione civile nazionale, sono state dotate qui da noi di linee vita per permettere appunto la manutenzione futura degli impianti posti in copertura e delle coperture stesse, così come è stato progettato l'elaborato tecnico di copertura per gli interventi in quota. Per ciò che riguarda invece gli altri regolamenti, cioè il regolamento dell'industria e il regolamento dell'agricoltura, la scrittura di queste norme trova difficoltà in effetti ad essere realizzata per l'eterogeneità dei soggetti che dovrebbero, diciamo così, essere coinvolti, per il fatto che le azioni dovrebbero essere rivolte a privati, in agricoltura per esempio, e a soggetti complessi quali le grandi imprese e non si hanno né incentivi né deterrenti né possibilità di controllo efficace su tali attività al di fuori di quelle previste dal decreto legge 81 del 2008. Il tavolo già istituito sull'attività in industria comunque comincerà a lavorare sostanzialmente all'inizio dell'anno. Bene, prego consigliere Solinas per la reddica. Sì, grazie. La risposta dell'assessore è stata senz'altro soddisfacente. Visto il tema così delicato, l'auspicio è che si completi prima possibile l'azione dell'assessorato insomma in collaborazione anche con le rappresentanti di categoria per appunto definire ancora meglio e attuare misure per la formazione dei lavoratori. Grazie. Grazie consigliere Solinas. Direi di concludere le interrogazioni dell'assessore Chianella poi passiamo all'assessore Cecchini e Bartolini. Quindi con il prossimo oggetto il numero 172 presentato dal consigliere Smacchi interroghiamo l'assessore Chianella sul completamento dell'asse viario Perugia-Ancona. Prego consigliere Smacchi. Grazie Presidente. Allora assessore, quando nel 2003 la regione Umbria, la regione Marche, Anas, le Camere di commercio delle province di Perugia, Ancona e Macerata pensarono di costituire una società di scopo, la quadrilatero, per realizzare i lavori della nuova viabilità che doveva congiungere i capoluoghi di provincia di Perugia e di Ancona e dovevano congiungere le città di Foligna e Civitanova, tutto avrebbero pensato meno di trovarsi in meno di dieci anni a dover affrontare tre concordati fallimentari, tre aziende di grandi dimensioni con strutture solide che in maniera graduale ma anche improvvisa hanno richiesto il concordato preventivo e hanno messo in grande difficoltà imprese umbre e marchigiane che avevano dato disponibilità a compiere quei lavori e a mettere a disposizione delle forniture. Soltanto con riferimento alla crisi della Staldi parliamo di circa 40 milioni di euro come danno causato alle imprese umbre, parliamo di circa mille lavoratori che non hanno più lavoro e che si trovano in difficoltà ad avere i loro stipendi. Parliamo di cantieri fermi da mesi anche per quanto riguarda l'ultimo tratto Umbro, quello che va da Fossato di Vico a Fabriano che deve essere completato e parliamo di un cantiere che, temo, difficilmente potrà partire a breve che è quello del raddoppio del tratto che va da Casa Castalda a Valfabbrica. Parliamo di un'opera completamente finanziata, parliamo di risorse che sarebbero fondamentali per la ripresa e lo sviluppo di un territorio che è stato considerato ed è un'area marginale del nostro Paese e della nostra Regione. Parliamo di una situazione ormai insostenibile. È per questo che ho visto anche in conseguenza di una risoluzione votata in quest'Aula alcune settimane fa che la Regione ha un ruolo primario anche nelle trattative, nei confronti. Ho letto che pochi giorni fa c'è stato un tavolo con il Ministro Toninelli che ha proposto un tavolo nazionale. Io credo che noi dobbiamo, Assessore, avere un ruolo fondamentale intanto a tutela delle nostre imprese. In alcuni casi queste imprese hanno subito tre concordati, quindi hanno visto ridurre la propria ricchezza e le proprie potenzialità come imprese in maniera rilevante. Quindi le chiedo, Assessore, di farci un po' il punto della situazione sulla base anche degli incontri e delle riunioni avute e le chiedo anche da l'abitante di quel comprensorio di fare di tutto per evitare che una fonte di ricchezza possa diventare un problema serio per la sopravvivenza di un tessuto economico. Grazie. Bene, prego, Assessore Chianella. Grazie. Sì, consigliere Smacchi, confermo che la Giunta regionale sta seguendo costantemente questa questione molto delicata che riguarda imprese del nostro territorio e che riguarda infrastrutture allo stesso tempo del nostro territorio. Confermo che i lavori sono fermi, lavori per circa 500 milioni, lavori tutti in capo alla Astaldi. Lavori che riguardano il potenziamento della direttrice della Perugia Ancona e il completamento della Pedemontana delle Marche. È una questione molto delicata. È vero che alcuni giorni fa abbiamo avuto modo, sia io che la Vice Presidente delle Marche, la Dottoressa Anna Casini, di incontrare il Ministro Toninelli. È stato un incontro, devo dire, incidentale. Noi sollecitavamo l'incontro, ma quel giorno eravamo al Ministero per altre cose, con tutte le regioni italiane, appunto, per discutere la gestione dei fondi nazionali. E però abbiamo avuto modo, appunto, di intercettare il Ministro che ci ha, diciamo così, incontrato e che sostanzialmente, come poi è apparso, diciamo, sui giornali, si è impegnato sostanzialmente a fare un tavolo nazionale per verificare questa situazione. È una situazione complessa, ovviamente, che riguarda il rapporto della Staldi con le subaffidatarie. Non è semplice, ovviamente, entrare in queste questioni che sono, per alcuni aspetti, squisitamente giuridiche, tra virgolette, ma incidono in maniera importante sulle economie e sulla sopravvivenza, in alcuni casi, delle stesse imprese. Noi stiamo aspettando che il Ministro, ovviamente, ci convochi, la Regione Marche, la Regione Umbria e anche i rappresentanti delle categorie, quindi di Confindustria, dell'Ance, CNA e Confartigianato, perché ci sono imprese anche piccole, che sono, appunto, che fanno parte delle altre confederazioni, delle altre gruppi di imprese. Quindi il contraente a Staldi ci risulta che ha confermato, anche da un incontro che abbiamo appreso dalla stampa avvenuto il 21 novembre, ha confermato la volontà di proseguire le lavorazioni con un nuovo cronoprogramma per l'ultimazione degli interventi, nell'ipotesi che avvale le necessarie verifiche, nuovo cronoprogramma risultasse percorribile. Quindi, sostanzialmente, la situazione è sotto controllo, perché la presentazione del concordato ha fatto sì che sono stati nominati tre commissari che dovrebbero verificare un piano, diciamo così, di rientro e in queste situazioni cercheremo di avere, per quanto riguarda, insomma, la Regione dell'Umbria, le Regioni, noi lavoriamo in stretto contatto con la Regione Marche su questa questione, perché ci sono anche, diciamo, imprese della Regione Marche che stanno nelle stesse identiche condizioni, cercheremo di interloquire per quanto possibile, nel rispetto ovviamente delle leggi, per, come dire, da una parte salvare le imprese, quindi garantire alle imprese il recupero di quanto appunto Astaldi gli deve e dall'altra parte ovviamente una ripresa, diciamo così, dei lavori, delle infrastrutture che sono fondamentali per le due Regioni e non solo per le due Regioni. Quindi seguiamo attentamente giorno per giorno questa questione, lavoriamo in contatto anche con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese e qualsiasi, diciamo così, evoluzione di questa questione la porteremo a conoscenza ovviamente di questa Aula e della, diciamo così, dei cittadini più in generale. Grazie, grazie Assessore Chianella, abbiamo adesso concluso quest'atto e torniamo indietro No, Presidente, la replica ci sarebbe. Scusi, scusi, Consigliere Smacchi, prego. Sì, grazie, grazie Presidente, grazie Assessore anche del suo interessamento fattivo. Un paio di considerazioni però vorrei fare. La prima, ha parlato di un nuovo cronoprogramma che Astaldi ha messo a disposizione per il completamento delle opere già finanziate ancora non concluse. Va bene, c'è anche una data fondamentale che è quella del 16 di dicembre che non sono soltanto le primarie del PD ma è anche la data che è il termine ultimo per la presentazione della proposta definitiva al Tribunale. Quindi credo che da questo punto di vista dovremo attendere questa data perché è fondamentale. Ho letto che Astaldi ha chiesto ad un pool di banche un prestito ponte di 150 milioni di euro per ripartire nell'attività. L'unica cosa, Assessore, che dobbiamo evitare è che ci sia oltre il danno la beffa per le imprese Umbre. Cosa voglio dire? Voglio dire che so che Astaldi ha chiesto alle imprese Umbre una riduzione dei costi rispetto ai lavori ancora da completare e quella stessa proposta la vuole fare anche a nuove imprese. Ora, su questo massima allerta, Assessore, perché la beffa veramente non siamo disposti a sostenerla. Grazie. Grazie Presidente Smacchi. Adesso andiamo all'oggetto 156. Si tratta di una interrogazione del Consigliere Fiorini rivolta all'Assessore Cecchini. Riattivazione del laboratorio ittico di Terria nel comune di Ferentillo. Intendimenti della Giunta regionale a riguardo. Ricordo a tutti il rispetto dei tempi. Prego, Consigliere Fiorini. Grazie Presidente. Ma all'interno del parco fluviale del Nera è stato istituito il laboratorio ittico di Terria, ubicato nel comune di Ferentillo, in una zona di grande pregio naturalistico in cui l'habitat incontaminato favorisce particolari condizioni di vivibilità di alcune specie ittiche autoctone. Premesso che la struttura di allevamento ittico è stata realizzata dal servizio di programmazione faunistica della provincia di Terni, l'impianto si qualifica per la conservazione e riproduzione mediante l'utilizzo di particolari tecniche dedicate della trota fario appartenente al ceppo mediterraneo, fortemente presente nei tratti del carattere torrentizio del fiume Nera. L'Assemblea legislativa, con deliberazione numero 212 del 21-11-2017, ha approvato il piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva. Considerando che dal 2016 l'impianto di allevamento di Terria è stato chiuso e attualmente non è più funzionante, la chiusura ha messo in sé la discussione tutto il prezioso lavoro svolto per anni all'interno della struttura, mettendo a repentaglio un intero patrimonio di conoscenza che ha contribuito ad attirare in un'area che si estende dalle gole del Nera fino al lago di Periduco appassionati pescatori scolaresche e semplici turistici amanti delle bellezze del luogo. Consigliato che l'Umbria detiene il 10% della produzione nazionale delle trote, con aziende che da più di 50 anni operano in questo settore, in particolare aree del territorio regionale come la Valnerina e l'Alta Valle del Tevere. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede alla Giunta quali iniziative intende intraprendere per attivare e garantire l'attività di allevamento, conservazione e riproduzione di trote svolta dal laboratorio ittico di Terria nel Comune di Ferentillo, unitamente agli altri servizi collaterali garantiti dalla struttura. Cecchini a lei per la risposta. Sì, ma l'impianto di allevamento di trote di Terria faceva parte di un più ampio complesso di proprietà privata sul quale la provincia di Terni negli anni ha realizzato un allevamento appunto di trote fario selezionando il ceppo mediterraneo, anche per stare in linea con quelle direttive europee che impongono, laddove si portano avanti i ripopolamenti, di immettere e fa un'autotona, quindi in questo caso chiudere con l'esperienza della trota ceppo atlantico per immettere quella ceppo mediterraneo. Ed in questo caso è stato fatto un lavoro, crediamo, egregio e la provincia di Terni fino al 2015 ha pagato l'affitto per questo impianto prima al privato, poi nel momento in cui c'è stato il fallimento del privato al Tribunale di Terni fino al 2015. Nel 2015, quando in base al riordino della legge sulle province, le funzioni sono tornate in regione, non solo le funzioni che riguardano la gestione in generale della pesca, ma anche tre impianti di allevamento, uno dei quali è al Lago Trasimeno, un centro ittiogenico che dà la possibilità di mettere a disposizione carpe, lucci per ripopolamenti e a poca distanza da quello di Terria, l'impianto di Borgo Cerreto. Quindi in questo caso gli impianti erano tre, Lago Trasimeno, Terria e Borgo Cerreto. Considerando che Borgo Cerreto non è così distante da Terria e che era di proprietà della provincia, la Regione ha fatto un ragionamento, credo, saggio, anche andando incontro a quello che è un risparmio, comunque una razionalizzazione delle spese che negli ultimi anni ci è stata imposta e quindi siamo rientrati in possesso di tutti quelli che erano gli impianti e le proprietà dentro l'impianto di Terria che abbiamo trasferito a Borgo Cerreto di proprietà ora della Regione Umbria, compreso tutto il lavoro salvaguardato della selezione del ceppo della trota meriterranea, tant'è vero che già dall'anno scorso sono nate le piccole trote ed è stato possibile mettere a disposizione, prima dell'apertura della pesca alla trota, di un quantitativo considerevole di trote selezionate, mi pare oltre 60 quintali di trote e questa testimonianza non solo del fatto che abbiamo salvaguardato il buon lavoro ma siamo anche nelle condizioni appunto di procedere rispetto alle direttive europee. Naturalmente la Regione si avvale così come nel passato dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Università Politecnica delle Marche con le quali è stato stipulato un apposito accordo e questo appunto per garantire che ci sia quel rigore scientifico che fa sì che nel momento in cui noi procediamo per l'immissione di trote non ci debba essere la messa in infrazione da parte dell'Europa perché appunto provochiamo dei danni all'ambiente. Questo per dire quindi Terria privato non di proprietà della provincia non è più un impianto che adesso è stato regolarmente acquisito da un privato quindi svolgerà un altro mestiere ma è stato salvaguardato al 100% tutto il patrimonio sia di proprietà degli impianti ma anche del lavoro scientifico che aveva portato avanti la provincia di Terni. Assessore, prego consigliere per la replica. Grazie Presidente. Un'altra volta e anche sotto questo aspetto Terni, la provincia di Terni è stata penalizzata dalla provincia di Perugia per quanto riguarda anche questa attività che si era svolta con molto lustro perché comunque hanno stati fatti degli studi, hanno trovato il ceppo per la riproduzione in collaborazione anche con l'università ma si è deciso praticamente di chiuderla e trasferire quello che era stato creato a Terria a Borgo Cerreto ma non la trovo alquanto giusto e giustificabile questa situazione e questo che è stato fatto soprattutto perché ha penalizzato come sempre da questa amministrazione il territorio della provincia di Terni. Sono stati spesi diversi soldi pubblici, tantissimi, che hanno dato il loro frutto una volta nelle tante e io non sono assolutamente d'accordo sulla scelta che è stata fatta mi ritrovo costretto, e lo dico già Assessore, a prendere tutta la documentazione per capire cosa è successo allo stabilimento di Terria e approfondiremo poi la situazione. Grazie. Grazie. Grazie.